Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Oggi iniziamo le nostre notizie parlando di rinnovi di contratto, in particolare quelli di Theo Hernandez, Mike Magnan e Matteo Gabbia. Non è stata fissata una cifra ben precisa per nessuno dei tre calciatori. Il Milan vorrebbe in particolar modo blindare Matteo Gabbia, il quale contratto scadrebbe nel 2026 e ad ora percepisce all'incirca un milione. Parlando invece di Theo Hernandez, pare che il giocatore voglia assolutamente rimanere a Milano, ma in caso non si riesca a trovare un accordo per il suo rinnovo, c'è già la Juventus alla finestra. Durante la pausa delle nazionali, Fonseca starebbe studiando un nuovo modulo e starebbe pensando di abbandonare la coppia Tomori-Gabbia e concentrarsi su Pavlovich come titolare contro l'Udinese. A proposito della partita contro l'Udinese, noi dovremmo fare a meno di Theo Hernandez, visto l'espulsione subita contro la Fiorentina. E Fonseca starebbe pensando di sfruttare o due giovani del Milan futuro, e sto parlando di Bartesaghi o Gimenez, oppure di Terracciano. Voi chi fareste giocare tra questi tre? Volete restare sempre aggiornati su tutte quante le news dei nostri rossoneri? Bene, venite a seguirci allora su tutti quanti i nostri social. Grazie.